ma io ti conosco la finestra si apri se non si sta ferma la metto in croce letteralmente ecco questo è metà croce vedete un iscritto in rì ma tanti che ci sono però ragazzi però devo dire che l'ho trovato per strada lui mi dice niente metti mi piace dai guarda Gesù guardatelo fatelo per Gesù senza un braccio e forse anche con un buco sui piedi guarda Siamo in 7 E si ragazzi In 7 Ma a me suona particolare Questo numero Il numero 7 Numero di Ronaldo Veramente vi voglio Un bene nell'anima Soprattutto per Anche tante altre cose Che potranno accadere nel futuro Oppure che anche accadono adesso Perché magari con questo video Che magari questo video farà tante visualizzazioni Quindi lo spero tantissimo Condividete questi video Mi raccomando su Ovviamente Youtube Oppure condividetele pure su Facebook Però giusto perché Non su Facebook Oh 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 Beh Eh praticamente Non mi viene Adesso ve lo spiego meglio Però ragazzi Queste E' bentornata E' bentornata In questo nuovo video No dai, scherzi e parte ragazzi Allora Praticamente Praticamente Ultimamente Sono spuntate fuori tante cose Nella mia famiglia Del tipo che forse Andiamo a Deseo Per cui penso che ci sarà il vlog più bello Della mia vita Una giornata Per cui a Deseo Ragazzi veramente Mio fratello Merda Vabbè Non mi dispermo molto Veramente Per cui ragazzi Andiamo a Deseo Ne approfitto anche per fare Veramente Gli auguri del 51esimo Dei miei nonni Veramente Ne approfitto Per Augurarvi un buon 51esimo anniversario Mi raccomando Fateli anche voi gli auguri Per favore Grazie a tutti E soprattutto Veramente Gli auguro una bella vita insieme Quindi il 51esimo Ragazzi Si capisce che Nozze d'oro Più un anno Beh Sono 50 anni di emozioni Ma la poppa rompe i maroni Ma Noi torniamo a noi Noi torniamo a noi Noi torniamo a mezzo Noi torniamo a mezzo Da nintendo Da nintendo Mi lanciamo anche qualche cos'altro Dai Dov'è Ragazzi Lanciamo Questa 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 Ormai indietro Per Mi tengo a andare Ecco Ecco Testimoni voi Vedete Ok Ok Noè Ecco Finita male Finita male Ma A me Che cazzo l'ho avuta 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 All that's left is a window too So come and get it Grazie a tutti. 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 Voglio solamente due mi piace per l'intervista ai miei nonni. Non li ho fatti venire qua perché non volevo scomodarli. Poi, poveri di sono anziani, io sto crepando, però io lascio questa canzone, vi lascio alla fine del video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.